statella c'è il cosenza no l'esterno di melito portosalvo firma il suo quarto gol a consecutivo ma questa volta non serve a portare a casa punti preziosi il magic moment del cosenza frena bruscamente a foggia ma il merito c'è da dire è tutto dei satanelli bravi a non andare in paranoia dopo l'illusione silana firmata proprio statella i pugliesi di stroppa son tornati forse più forti di prima peccano ancora di confusione nelle fasi iniziale del match e su un blackout che infatti arriva il quarto centro di fila dell'esterno rosso blu ma quando ingranano la marcia è impossibile riprenderli allo zaccheria la reazione rosso nera lo svantaggio è vehemente come l'abbraccio intenso ricevuto da lo iacono autore a sorpresa del gol del pari in chiusura di tempo una rete che sveglia dalle targo i satanelli da lì in avanti padroni del match quando sarno tira dal cilindro una magia sull'invito perfetto di emperare la gara praticamente chiusa anche perché calabresi nonostante l'input spregiudicato di rosselli della panchina molla completamente la presa sicurella firma il tris e sulla sfida è punto esclamativo il cosenza non sa vincere con le grandi ormai è una certezza conclamata alle sue buon passo per la cinus 24 nonostante